Mi chiamo Angelo Baleani, dirigo il Centro Donto Iatrico Tecne di Osimo e mi occupo in modo particolare di chirurgia implantare e chirurgia estrattiva. Insieme a due amici, Roberto Barone e Carlo Clauser, abbiamo negli anni messo a punto una metodica chirurgica che serve ad affrontare le estrazioni in studio, diciamo la quasi totalità delle estrazioni che si presentano, che siano essi denti in arcata o denti inclusi. Un metodo significa applicare uno strumentario ben preciso, uno strumentario moderno, uno strumentario che ci dà campo visivo a delle tecniche chirurgiche e quindi a una tecnica specifica così da ottenere dei risultati che possano essere prevedibili e che possano semplificare l'estrazione dei denti eseguita in studio con le leve. In questo corso vi presenterò in modo particolare questo metodo. Cercheremo di soffermarci su quella che è l'analisi delle radiografie, di cercare di capire come leggere una radiografia, un'ortopantomografia e poterne trarre delle informazioni utili. Quali sono gli errori che si fanno durante la lettura di queste radiografie? Così da poter capire quando un dente è difficile da estrarre o quando è un'estrazione che può essere alla nostra portata e capire quando un dente del giudizio per esempio presenta dei segni di rischio di danno neurologico, quanto invece la presenza del segno di rischio è bassa ma possa essere più alta la difficoltà di estrazione. Affrontare le estrazioni in studio, poterle affrontare con serenità, senza ansia, potendo dare al paziente una prestazione che non ricordi in maniera negativa è lo scopo di questa nostra tecnica. Noi vorremmo semplificare la vita di noi professionisti ed imparare a capire quali sono le estrazioni semplici che possiamo fare o quali sono le stesse estrazioni complesse che possiamo mettere in atto senza necessità di ricorrere ad altri professionisti. Dobbiamo imparare a leggere gli esami tridimensionali, dobbiamo imparare ad applicare in campo un metodo che ci permetta di semplificare le nostre prestazioni chirurgiche così da ottenere dei risultati affidabili e che ci permettano di non avere ansia durante e dopo l'estrazione. Grazie